hi guys bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito io sono Gavi io Bilillo oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido vai Bilillo esponicelo ha un liquidozzo che è una bomba una bomba il DECA la marca che lo produce come quella della Tupaf la sta portando fuori la Vaporart un liquidozzo micidiale viene fornito 20 ml di concentrato la baseta da 30 e chi ci vuole la nicotina ci mette la nicotina o se no ci aggiungi la baseta neutra da 10 ora andiamo a fare la prova di svapo e a tirare qualche considerazione a questo liquidozzo che è uscito ora preso lo svapo caffè ricordiamo c'è la quantità industriale andatela a trovare svapo caffè marina di carara moliciara e la spezia andatela a trovare ora facciamo la prova di svapo e tiriamo qualche conclusione a questo liquidozzo noi abbiamo visto detto a bocetta della base lo andrò a provare col ghani e il druga e io con l'amerone lo andrò a spingere diciamo a un wattaggio un pochino più alto per vedere com'è se fa tanto fumo com'è gabriel questo liquidozzo qui? favoloso buono ci sbarga? no cioccolatura mi ricorda la cioccolata calda buonissima la cioccolata calda e ne spitte come la cioccolata del uovo di pasca si dolcissimo tanta roba e io gli do 9 9 anch'io gabriel il fumo ne fa un botto si il sapore buonissimo ti lascia la buonissima proprio il cioccolato cioccolato dai inizio alla fine la squisitezza la squisitezza questo video qua, allora se lo volete trovare da Swappo Caffè mi raccomando andatela a trovare dalla tavola dello Swappo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram veniteci a trovare vi aspettiamo ciao ragazzi